Buongiorno, questo è un video tutorial per vedere come si compila in grandi linee la domanda per la partecipazione al concorso ordinario per posti comuni di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. Si entra sulle istanze online, si cerca il form concorso ordinario per i posti comuni di sostegno della scuola dell'infanzia e della primaria e si va al tasto vai alla compilazione. Quindi si entra in una pagina dove ci stanno le avvertenze del concorso, gli spunti del decreto direttoriale 498 del 21 aprile, quindi ripeto le avvertenze, gli aspetti del trattamento dati, della privacy, la finalità del trattamento e base giuridica e al fine di questa pagina si può fare accedi e si entra nella parte dove si può scegliere la regione. Qua bisogna dire una cosa importante, se si andasse a scegliere una regione in cui non ci sono posti, la domanda non può essere compilata, per cui è chiaro che bisogna compilare la domanda solo per le regioni in cui si hanno i posti. Noi scegliamo per esempio tra tutte le regioni la regione Sardegna, in modo tale che ci sono i posti sia per l'infanzia che per la primaria e facciamo avanti. Facendo avanti si va prima in una pagina dell'anagrafica del docente aspirante al concorso e facendo nuovamente avanti si entra nel modello di presentazione della domanda. Vedete che abbiamo tre campi asteriscati che sono quelli obbligatori da compilare, nel senso che il primo è obbligatorio per quanto riguarda i posti comuni, il secondo solo se si ha il titolo di sostegno, dunque si possono compilare entrambi o uno solo se non si ha il titolo per esempio di sostegno, non si deve compilare il secondo, si compilerà il primo e quello delle altre creazioni che sono obbligatori. Dopodiché si possono compilare anche gli altri titoli valutabili, titoli di preferenza e titoli di riserva, che non sono campi obbligatori, ma si consiglia di riempirli, di andare all'azione disponibile, proprio per il fatto che i titoli valutabili si devono dichiarare in questa fase. Andiamo a compilare il primo campo, cioè il tipo di posto da scegliere. Inseriamo, si andrà ad aggiungere abilitazione all'insegnamento conseguita in Italia, dunque il titolo, il tipo di insegnamento qui si deve optare o per l'infanzia o per la primaria, per esempio scegliamo primaria. Si procede proprio a indicare che tipo di abilitazione, ecco qui c'è un menu a tendina che dà tutti i tipi di abilitazione possibili, per esempio chi ha un titolo di maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002 può andare a selezionare questo tipo di abilitazione. Inserire per esempio la votazione conseguita, ad esempio 54 sessantesimi e farà da solo la conversione tra i 90 centesimi. Dire è proprio quando si è conseguita il titolo, per esempio facciamo conto che si sia conseguito nel 1998, il luglio, il 16 luglio del 98, per esempio, e dire il luogo in cui è stato conseguito, per esempio istituto magistrale Bulli di Reggio Calabria. Questo è un titolo valido e si fa inserisci, si inserisce questo titolo e questo titolo dà diritto alla partecipazione del concorso. Velocemente vediamo gli altri titoli valutabili, si accede a questa sezione, qui c'è un elenco infinito di tutti i titoli valutabili da poter inserire. Per esempio chi ha un master universitario di primo o secondo livello con 60 CFU e 1500 ore ed esame finale, può tranquillamente, cliccando questa sezione disponibile, inserire il master che aggiunge il titolo e si inserisce attraverso questa finestra il titolo del master. Si possono inserire anche i titoli di laurea, come vedete, il diploma ISEF, i titoli di laurea riferiti all'educazione musicale, al conservatorio, oppure le lauree triennale di L11 o L12, purché il piano di studi abbia compreso i 24 crediti nel settore scientifico, disciplinare L11, ovvero L11, che non sono accumulabili con il punteggio di cui è il punto B2. Ecco, e poi ci sono anche altri titoli, per esempio ci sono i titoli CLIL che si possono inserire. Vedete, abbiamo per esempio la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento CLIL, si possono inserire in quest'area qui. Qui, ripetiamo, c'è tutta la disponibilità di poter inserire i titoli, anche il servizio di insegnamento prestato sul posto specifico, che si può inserire in quest'ultima voce. Si aggiunge questo titolo, si parla dell'anno scolastico di riferimento, il tipo di servizio che c'è un menu a tendina, se è in una scuola paritaria, se è in una scuola statale, se è in istituzioni di convitti. Ecco, che tipo di servizio è stato fatto, se è sul sostegno oppure no, perché altrimenti sarebbe stato fatto sul posto comune, poi si mettono tutti i dati riferibili proprio al servizio prestato, perché anche questo dà titolo. Ovviamente poi ci sono anche i titoli di preferenza che si possono inserire, insegnito di miraglia al valore militare, mutilato o invalido di guerra ex combattente, cioè tutta la classica, i classici elementi di preferenza, anche in riferimento a essere genitori vedovi non risposati, e sorelle e fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra, ma c'è anche chi ha prestato servizio da un militare come combattente, chi è invalido o mutilato civile, chi è coniugato con il numero di figli a carico, ma ci sono tutte le preferenze che sono esprimibili, anche quella di aver prestato servizio senza di merito in un'altra amministrazione pubblica. Infine, sicuramente molto importante, le dichiarazioni, le altre dichiarazioni che sono obbligatorie, cioè per esempio di essere un cittadino italiano, di godere dei diritti politici, di essere fisicamente idoneo all'autologicamente delle funzioni proprie del docente, cioè tutta questa parte di dichiarazioni va puntualmente inserita. Tra queste dichiarazioni c'è anche quella di inserire il contributo versato per la partecipazione al concorso, ecco in questo basta fare così di aver effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso, e per il trattamento dei dati della privacy. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri lettori, seguitici ancora nel nostro canale YouTube e nel sito www.tecnicadellascuola.it. Un saluto a tutti i nostri lettori. Grazie a tutti.